Ultimi scavi a Cascinevica per il prolungamento della linea 1 della metropolitana, in arrivo dal capolinea di Collegno. Con un po' di emozione e con un bel applauso è stato aperto l'ultimo diaframma della galleria che collegherà la stazione Leumann con Cascinevica, una cerimonia simbolica mercoledì 2 agosto, alla quale hanno partecipato tra gli altri Bernardino Chiaia, presidente di Infratò, il sindaco della città metropolitana di Torino, Stefano Lorusso, con i primi cittadini di Rivoli, Andrea Tragaioli, e di Collegno, Francesco Casciano, insieme all'assessore ai trasporti di Grugliasco, Raffaele Bianco, e gli assessori di Regione Piemonte, Tronzano e Ricca. Le attività per il prolungamento ad ovest della linea 1 della metropolitana sono quindi ad un vero punto cruciale. La tratta, dal valore di oltre 70 milioni di euro, è stata finanziata dallo Stato. Oltre a quelle di Certosa e Collegno Centro, saranno due le nuove stazioni, Leumann e Cascinevica, con un parcheggio di interscambio per 350 posti auto. La messa in esercizio è prevista per il prossimo anno. Sindaco Tragaioli, la metropolitana arriverà davvero a Cascinevica, ma nel futuro che cosa vi aspettate? Beh, intanto io ritengo che questo traguardo sia un traguardo importante, quello di averlo fatto a Cascinevica. Quello che è il futuro prossimo, io spero che ci sia il prolungamento della metro fino in centro città. Senz'altro perché l'avvento della metropolitana in centro cambia tutti gli equilibri, di vita, di mobilità sostenibile e quant'altro. Somma, una città ricca anche di arte, di cultura, all'ombra del castello potrebbe essere una grande opportunità per tutti i rivolesi e non. Cascinevica, next station, Cascinevica.